Con il primo esperimento di democrazia diretta vi abbiamo dato l'opportunità di partecipare con noi all'elaborazione della proposta di legge sull'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. È stato un onore per me essere il primo a poter sperimentare il nostro nuovo sistema operativo e devo dire che c'è stata una grandissima partecipazione da parte vostra. Ci sono arrivate circa 4.500 proposte di modifica e il nostro lavoro è consistito soprattutto nel selezionare le proposte più condivise e portarle all'attenzione del resto della Commissione Cultura. Insieme a loro abbiamo deciso poi cosa inserire nella proposta finale. Grazie al vostro contributo infatti abbiamo in particolare salvato il fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti e la pubblicazione per le minoranze linguistiche mentre abbiamo deciso comunque di abrogare i fondi per le pubblicazioni all'estero. Bisogna precisare che i fondi diretti all'editoria ammontano a circa 80 milioni ma sono ben più cospicui i fondi indiretti all'editoria. Infatti una delle proposte più interessanti che ci è arrivata dalla rete è quella di togliere l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di pubblicare i bandi di gara. Questo se passasse farebbe risparmiare agli enti locali ben 3 miliardi di euro. In ultimo molti di voi ci chiedevano come avremmo utilizzato gli 80 milioni di finanziamenti diretti che si risparmierebbero con questa operazione. Noi sempre grazie a un vostro suggerimento abbiamo deciso di destinarli al finanziamento di start up di giovani giornalisti. Come sappiamo questa è una delle categorie più bistrattate i giornalisti under 35 che molte volte sono costretti a lavorare per pochi euro al pezzo o addirittura a lavorare gratuitamente per aspirare al raggiungimento del tanto agognato tesserino da pubblicista. Con il finanziamento di questi nuovi progetti editoriali risponderemmo a due esigenze ben precise quello di tutelare i posti di lavoro e allo stesso tempo garantire il pluralismo dell'informazione due cose molto importanti. Ringraziandovi per l'affetto e per la calorosa partecipazione vi salutiamo. Viva la democrazia diretta e viva il Movimento 5 Stelle!